vabbè gioco vai gioca signori però prima di giocare eccoli qua i 500 euro un applauso a questi 500 euro che non sono bonus che non sono bonus ma questi sono veri giocammo con caldo perché questi sono soldi veri guarda là ci siamo persi già ci siamo persi il primo aereo guarda quanto ha fatto prima? 190 è un gioco semplicissimo in poche parole tu scommetti una cifra e prima che l'aereo prende il volo fate parlare vi giro zitti un attimo e allora vedete adesso per esempio l'aereo è volato a 1.87 per noi dobbiamo cercare di riscuotere prima che prenda l'aereo il volo noi ci possiamo ritirare ci possiamo ritirare sia per esempio ok fermati mo ok per esempio adesso non potevi più fermarti avevi perso ok ok però se sale l'aereo più sale l'aereo più si vince si si infatti prima se vedi sopra ha fatto un 190 aspetta non vedete che sa chi sta donando e ci sta rubendo gianni 5 ci hai fatto un bucchino tu hai su Ciro 2000 che la parà a Waller Twales va bene così ragazzi a posto vabbè che apriamo la diretta nostra quando è stata a Berlino che ha dispiso i soldi si sta a fare un viaggio e sta nei cosi si è a smaron è il coprifuoco c'è il coprifuoco vergognati questo per esempio vedi l'aereo sta volando adesso sei per si 7 per 8 per si 10 11 questo era questo era bellissimo per esempio 10 euro erano 180 200 euro 210 220 30 40 50 c'è cazzo non si ferma più non si ferma più mamma mia 40 42 assurda facciamolo a che si fermi più ne capita 175 mamma mia signore con 10 euro con 10 euro 150 euro mamma mia di nuovo scommetto e scommetto allora quello di destra è quello che noi dobbiamo cercare di incassare prima che voglia l'aereo lo dici tu ferma no no rimetto tu vigi sei più intenditore vai mi fido di nuovo stiamo perdendo metti la freccia là sopra così in casa subito arriviamo almeno a 2 proprio a 2 prendiamo aspetta proprio aspetta 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 vacanzi un cassa cassa un cassa un cassa 3 a me a 365 i primi 3 euro su avieto no no abbiamo fatto bene vabbè pigiamoci m fabbri a quanto arriva fabbri no vabbè comunque abbiamo recuperato perché abbiamo il fisso quindi non abbiamo perso nulla perché non abbiamo fermato un ammobiato manco cazzo noi prendiamo sempre se arriva 1,50 perché abbiamo 2 euro fissi a 1,50 dall'altro abbiamo preso a 3 a 3 lo blocchi a 3 3 lo blocco a 3 lo blocco un cassa allora incassa 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 maronna canzi angolo meno ci sarà un nuovo tormentone incassa 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 grazie tecno baruno ad la uo venti bello venti era buono era buono si era buono ahi chissà fino a 5 vai chissà di 5 devo aspettare il prossimo turno no 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 figgi che ha già fatto attenzione fabbri attenzione che faccio arriva 5 aspetta fanno volare fanno volare eh l'ho fatto volare ah ci commettivi tanto quando arriva 1.50 no vado là vado vado me sono mani che è di russi no no vado 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 mamma mamma mi sono il solito scammatore 15 vado vado non c'è due senza tre fabbri non c'è io state capite che temiti pronto fabbri temiti pronto no ok vado ciao 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 hai detto 10 vinci 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 3 ragazzi ha detto 10 10 per 10 per ma vinci con frate, hai detto io ma dici quello ma che vuoi che dici quello io capivi i soldi, ci ho sbagliato stiamo risalendo continua continua a 10 a 10 a 10 ho detto 15 si è andato a 10 che hai già fatto? fermatelo buono buono io 15 avevo detto, c'erò quasi e lo so però ma ti è striccio alto all'ucano ho paura dell'aereo chiamate mia mamma che paura, che anzi ancora non ce la faccio non sostengo questo gioco no scamo scamo no no a 10 aspetta aspetta a vendi no c'è a magrena no a vendi no c'è a magrena anna anna io col cure 65 ma state perdendo un sacco di soldi ampezzatrice è rittata mi stai figuro a vendi blocca a vendi blocca io blocco ho bloccato ho bloccato ho bloccato ho bloccato ho bloccato 536 ciao mamma ho bloccato mamma mamma mi piacciono il biazzone bocca non c'è più nessun che nuova l'hanno abbattuto in capi che la cingh gbr di tecci vabbè 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 c'è visite le 30 prendi il bucchi cp venga finellato quando è verde facciare oggi cacciata gps cacciate gps arriva a 11 arrivano a 11 fanno volare siamo solo due siamo solo due fabbico mamma mia mamma mia a ryanair 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 a quindi per la meraviglia a 15 che faccio vg figlia 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 ho preso questo ma non è ma chi le ricevono l'angolo che mi ha fatto paura a me capito esatto vinci me la spieghi questa storia di questi qua che prendono spiegami dopo come queste qua queste qua sono le puntate che fanno gli altri giocatori se ci sono puntate alte può succedere che è bloccato è bloccato mouse è bloccato mouse aereo filmi filmi l'aeroporto capirchino aspetta ma di capo di chino ragazzi fermate capo di chino no no mannaccia morto su mouse è capitato mamma mia capo di chino però fermati cazzo non funziona più perché non manca tempito ma perde troppa n'euro perché faccio sempre che aspetta non si recupera mangiare una manovra fabbri una manovra una manovra un massaggio cardina non si muove l'aspirazione bocca a bocca non si recupera ma l'ovra di amlick ragazzi dobbiamo si caspita ma c'è l'operato ragazzi a cuore aperto aiuto mamma queste lecce domenica daniele tra tu entrate qualcuno computer stavolando non funziona no fabbri no ma aggiungiamo a ciccio già faccio passaviglia no ecco ecco scommesso ha ripreso vita ho scommesso la manovra ha funzionato la manovra ha funzionato i ragazzi mamma non è che ci stanno per bene che ci stanno per te che non ho scommesso qua no ci stavo per te ma come due puntate più belli puntate ma non è nascito sempre due per tre fermo ma come si può fare di mare qua 41 a 9 primi amica fabbri picchia mi ha preso vigni fabbri picchia mi ha preso vigni fabbriano siamo arrivati a 5 e 50 così amici che la stata in abitiamo per si è puntata più forte ma chi se lo aspettava dopo un 40 amico superiore e sarebbe no ha dato là o ha dato ha dato uno no 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 meno ma meno male i mari in giglio 70 non ho libero deciditi ma rischia fabbri io rischierei fino a quando 7 8 rischierei mamma mia dirsi accetti chi le riesce accetta accetto di accetto no cazzo ma sono fatta fanno si vota ma sono fatta non si conti proprio che fa ma che fa ma non c'è la faccio più è scommesso in gas in casa sono giusto in tempo in gas non si preme ho incassato ho incassato ho incassato ho incassato non mi dare l'ansia non mi dare l'ansia non mi dare l'ansia Fabrizio incassa però Fabrizio incassa Fabrizio incassa Fabrizio incassa ho incassato ho incassato 5-5-5 A few moments later Non sai perché hanno incassato tutti? Chi si arriva a 100 arriva? Ma sta da fare un film con questa puntata oggi L'hage è in un film con quella vecchia Oh no gilana È in un film? No E sale ancora? No, non vi renda l'unico Mi 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 renda l'unico Ma palla Oh no, ma che è? 250 per No film, fermatelo Dai ti prendi Quanto è bello E ci fai E ci parte Grazie.